Proveniente d'Alba è arrivata a Torino, presso la sede di Arpa Piemonte, la mostra fotografica Un Fiume di Ricordi, l'alluvione del 4, 5 e 6 novembre 1994, nelle foto di allora, con le istantanee di 10 fotografi che seguirono la sciagura. L'esposizione itinerante, curata dal Consiglio regionale, viene poi allestita presso il Comune di Alessandria da lunedì 17 a domenica 23 novembre.